Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari. Apriamo con la notizia di giudiziari alla GUP del Tribunale di Bari. Angela Paola, Angela De Santi, si ha rinviato a giudizio 5 imprenditori accusati di aver speculato sull'emergenza Covid, stipulando con le ASD pugliesi durante il lockdown del marzo 2020 contratti per forniture di centinaia di migliaia di mascherine FFP2 ed FFP3 con rincari dal 41 al 4100%. I 5 imputati sono contestati a vario titolo i reati di manovre speculative sul mercato, tentata truffa aggravata e frode in pubbliche forniture. Stando alle indagini della Guardia di Finanza coordinate dal procuratore Roberto Rossi, sarebbero stati applicati sovrapezzi via via crescenti nel corso di diversi passaggi della filiera commerciale, arrivando a vendere mascherine del valore di poche decine di centesimi fino a oltre 20 euro ciascuna. E siamo alla pagina politica, a meno di una settimana dal voto, conferenza stampa questa mattina del leader della Lega Matteo Salvini, vediamo come è andata nel servizio di Michele De Nora. Ieri sera a Parco 2 giugno, oggi in conferenza stampa Villa Romanazzi. Continuano gli appuntamenti politici per il leader della Lega Matteo Salvini a meno di una settimana dal voto. No ad un ritorno di Mario Draghi al governo, sia ad interventi per bloccare gli aumenti delle bollette della luce, nuove fonti energetiche, abolizione della legge Fornero, flat tax, ma anche l'autonomia regionale, soprattutto al sud, con uno sguardo anche al futuro amministrativo di Bari e della Puglia. Autonomia significa gestire a livello locale qualcosa che è a livello locale senza che nessuno ci perda un euro. Se a Bari vogliono gestire delle funzioni che oggi gestisce lo Stato, invece di spendere 10, spendono 9, l'euro che risparmiano lo tengono a Bari. Non è che lo mandano a Treviso o a Palermo, metterli in futuro. La partita per le prossime elezioni comunali a Bari ci deve vedere protagonisti, ma già con largo anticipo, piuttosto che alle prossime elezioni regionali, senza arrivare con i candidati all'ultimo momento, come abbiamo fatto anche alle elezioni amministrative l'ultima volta. È colpa nostra, non è colpa degli altri. A Milano piuttosto che a Roma, se siamo arrivati all'ultimo momento con i candidati, è chiaro che poi l'elettore ti punisce. Vedremo in forza anche dei nostri errori del passato, sia in Regione Puglia che in Comune a Bari, di partire con la squadra con tutto il tempo necessario. Si conclude a Bitonto il tour pugliese della Vice Ministra delle Infrastrutture Teresa Bellanova, la rappresentante d'Italia Viva, ha fatto visita all'azienda Conserva Trasporti e Logistica. Vediamo. Una delle più importanti aziende di trasporto e logistica del Sud Italia, un polo scelto anche da Amazon per la sua base operativa in Puglia. Si conclude a Bitonto il giro in Puglia della Vice Ministra delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile Teresa Bellanova. La politica di Ceglie Messapica, figura di spicco di Italia Viva, ha visitato l'azienda Conserva, leader del settore danni e eccellenza del territorio. L'occasione è stata utile per fare il punto sul futuro dei trasporti. Bisogna partire dal mezzogiorno perché lo sviluppo dell'Italia o è attrazione meridionale o non è. Parliamo di infrastrutture che devono rendere più facile la mobilità delle persone, ma anche la mobilità delle merci. Perché se noi mettiamo in condizione la logistica di essere sempre più efficiente, di dare risposte immediate come il mercato richiede, noi a questo punto rendiamo competitivo tutto il sistema produttivo. Lo stesso Donato Conserva ha illustrato quale strada da seguire per guardare a un futuro che preveda un'ulteriore crescita che parta proprio dal Sud. Il mondo dei trasporti, il mondo della logistica è un mercato che tenderà a crescere. Chiaro per fare questo c'è bisogno di accorciare la filiera distributiva, di accorciare i tempi. Per accorciare i tempi c'è bisogno di infrastrutture. Un caso di eccellenza globale è Amazon che ha capito questa politica e non fa altro che accorciare la filiera dei tempi per la fruizione del prodotto. Amazon ha scommesso, ha vinto in un'area molto importante. A mio avviso il nuovo governo deve rivedere, promette riduzione di tasse, flat tax eccetera. A mio avviso deve cominciare a vedere le falle dove sono, deve mettere i tappi alle falle. Uno degli scogli come imprenditore che io trovo sul mercato è questo benedetto reddito di cittadinanza. Cento proposte di riforme e interventi per la prossima legislatura su 20 temi. Lega Ambiente Puglia mette al centro del dibattito politico, alla vigilia del voto del 25 settembre, lo sviluppo sostenibile ed ecologico della regione, puntando l'attenzione sulle crisi ambientali che minano i nostri territori. Venti gli ambiti tematici, riforme e interventi sulla transizione ecologica che hanno al centro la lotta alla crisi climatica, dimenticata in questa campagna elettorale, l'innovazione tecnologica, il lavoro e l'inclusione sociale. In un viaggio partito il 15 settembre da Roma, la nostra associazione ha voluto incontrare i candidati per il prossimo Parlamento e Governo per portare al centro del dibattito il tema della crisi e dei cambiamenti climatici, ha dichiarato Ruggero Ronzulli, presidente di Lega Ambiente Puglia, ad oggi totalmente assenti. Come Lega Ambiente abbiamo voluto racchiudere gli incontri sui sei temi principali che vedono la nostra regione al centro di una transizione urgente anche per la tutela e la difesa del bene comune e dei cittadini. Andiamo avanti con la cronaca. La procura di Bari ha aperto un'inchiesta dopo la morte di un bambino di sei anni avvenuta sabato scorso. Il bimbo originario del Brindisino era ricoverato nell'ospedale Giovanni XXIII di Bari dal 18 luglio scorso dopo aver ingerito accidentalmente della candeggina scambiata per acqua mentre era con la madre nel suo appartamento di Francavilla Fontana. Dopo il decesso i familiari del piccolo hanno presentato un esposto in questura ipotizzando il reato di omicidio colposo. Ora la procura di Bari dovrà decidere se disporre l'autopsia. La madre del piccolo il 18 luglio dopo aver scoperto l'incidente domestico si lanciò dal balcone della sua abitazione al terzo piano riportando gravi traumi. Siamo nelle notizie del nostro sito in un minuto. Ci colleghiamo con Italo Cinquepalmi. Italo buonasera. Buonasera Alessandra. La corte di Assise di Bari ha condannato alla pena di 27 anni di reclusione il 51enne Saverio Mesecorto imputato per l'omicidio volontario gravato dalla premeditazione dell'81enne Anna Lucia Lupelli trovata morta nella sua casa al quartiere Carrassi di Bari il 13 settembre 2021 ferita con otto coltellate. Mesecorto Reo Confesso, fermato due giorni dopo il delitto, è stato ritenuto responsabile anche del reato di rapina. E cambiamo argomento. Ha travolto una donna in bicicletta ed è scappato senza prestare soccorso. A riprendere la scena però c'erano le telecamere di videosorveglianza che hanno permesso di identificare l'uomo con per cui è scattata una denuncia. a rendere noto l'episodio alla polizia locale di Bari. Il fatto è accaduto la notte tra sabato e domenica nel sottovia Filippo. Pronto l'intervento della polizia locale grazie ai sistemi di videosorveglianza è così riuscito a individuare auto e conducente. E chiudiamo. Una delle sagre più attese in tutta la provincia di Bari è quella della Zampina, del Bocconcino e del Buonvino che quest'anno animerà le strade di San Michele di Bari dal 30 settembre al 2 ottobre. Giunta alla sua 56esima edizione, la sagra è un appuntamento fisso per gli amanti della classica salsiccia spirale più famosa della Puglia. L'evento si concluderà domenica 2 ottobre con il concerto gratuito di Corona l'artista che ha scalato le classifiche della musica densa anni 90. Bene, con questo è tutto per oggi. A te, buona serata. Grazie Italo. Andiamo avanti con un incendio questa mattina in via Mendola. L'allarme è partito quando residenti e passanti hanno visto partire dal terrazzo una nube di fumo nero. Due squadre dei Vigili del Fuoco sono entrate in azione con 12 uomini per domare il principio di incendio. Attimi di paura questa mattina, nei pressi dell'Executive Center, il motore dell'aspiratore di una pizzeria avrebbe preso fuoco creando una colonna di fumo che ha spaventato in tanti. Le cause e la dinamica sono ancora in fase di accertamento. Non ci sono stati fieriti, l'incendio è stato immediatamente spento. La polizia locale è intervenuta con una pattuglia per chiudere temporaneamente al traffico via Mendola fino a Viale e Naudi. Scoperta amarissima questa mattina alla sede degli scout della Pineta San Francesco è stata devastata. Pensate per la sesta volta ad accorgere se sono stati ragazzi che animano da dieci anni la casina della Pineta Barese che sabato hanno trovato scassinata e vandalizzata come purtroppo è già accaduto altre cinque volte. Un colpo al cuore che raccoglie rabbia ma anche voglia di non arrendersi. Le istituzioni ci aiutino a far rivivere la Pineta. L'appello lanciato ai microfoni di Telebari da Luca Scarpiello, responsabile dei programmi educativi degli scout. E parliamo di caro bollette perché l'aumento dei costi colpisce anche le chiese. Ne abbiamo parlato con il parroco della chiesa di San Nicola a Catino, Giuseppe Bellino. L'ultima bolletta arrivata pochi giorni fa segna un importo pari a 400 euro, quasi il doppio rispetto a quanto pagato nello stesso periodo del 2021. I rincari sui prezzi dell'energia stanno mettendo in difficoltà anche le parrocchie, come spiegato da Don Luciano Cassano, parroco della chiesa a San Nicola di Catino, affrontare bollette troppo salate non è per niente facile. Proprio oggi è arrivata una bolletta di 398 euro, cosa che non è mai accaduta nella storia di questa parrocchia. Abbiamo pagato massimo 160-170, quindi il doppio. Io ho detto alla gente che cerchiamo di collaborare perché alla fine ci sono le favole sui preti e sulle parrocchie. Si pensa che tutti i soldi arrivano dal Vaticano, il Vaticano che provvede alle utenze, a tutti i re, mentre non è così. Qua ci vuole le corresponsabilità. Il parroco e gli amministratori della parrocchia stanno cercando dei rimedi per contenere i costi. Una soluzione, già adottata da qualche settimana, è quella di non accendere tutte le luci presenti in chiesa durante le celebrazioni. L'aumento dei costi dell'energia sta causando molte difficoltà anche alle famiglie. Don Luciano ha lanciato un appello alle istituzioni per trovare soluzioni concrete. Questa situazione colpisce tante famiglie, prima di tutto. E quindi forse le istituzioni dovrebbero farsi un vero esame di coscienza. Perché tante volte queste cose accadono solo perché c'è la politica di mezzo. Quindi dovrebbero risolvere le questioni pensando alla gente, alle famiglie. C'è un effetto domino anche sui prezzi dei beni di prima necessità. Caro energia e siccità con il taglio dei raccolti spingono i prezzi dei prodotti alimentari e delle bevande che fanno segnare un aumento complessivo medio del più 10,5% che ha costretto i consumatori a tagliare gli acquisti nel carrello della spesa. È quanto emerge dall'analisi della Col di Retti Puglia sui dati Istat relativi all'inflazione ad agosto rispetto allo stesso mese dell'anno precedente che registrano una accelerazione dei prezzi dei vegetali e della frutta con un consumatore su due che taglia gli acquisti. Il risultato è un crollo dell'11% degli acquisti in quantità di frutta e verdura rispetto allo scorso anno. E parliamo di un'avvertenza di lavoro sit-in questa mattina dei dipendenti dell'autorità di bacino del distretto dell'Appennino Meridionale davanti a Piazza Prefettura. 17 lavoratori precari non ancora stabilizzati dallo Stato. Sentiamo le richieste dei sindacati di categoria. Cos'è che oggi chiedete qui davanti al Palazzo della Prefettura? La stabilizzazione dei precari. Noi qui nell'autorità di bacino meridionale, che interessa le sedi di Caserta e di Bari, oltre che quella di Potenza, abbiamo 17 precari in attesa di stabilizzazione, alcuni da molti anni, 8, e noi pensiamo che tutto ciò sia intollerabile, sia per la dignità dei lavoratori e del lavoro, sia per la questione che questi lavori che vengono posti in essere da questi lavoratori sono essenziali per la nostra pubblica amministrazione, per la tutela del suolo e per la tutela rispetto al discesso idrogeologico di cui siamo testimoni praticamente quasi ogni giorno all'interno di questo Paese. Queste le richieste dei sindacati di categoria, l'autorità di bacino del distretto dell'Appenino Meridionale non ha ancora ricevuto i fondi per stabilizzare il personale precario. Un sit-in con i dipendenti sono ben 17 i lavoratori precari altamente specializzati ed in servizio da molti anni. L'importanza è legata al territorio. Siamo un'autorità che gestisce praticamente tutte le regioni del Meridione. Nella sede Puglia siamo 44 lavoratori che si occupano della Puglia, del sud del Molise, della Basilicata, parte della Campania. Quindi può capire che è un territorio immenso. Siamo pochi e in parte siamo ancora precari. Ovviamente questo è un problema anche dal punto di vista del servizio che si riesce a rendere al territorio. Siamo tutte persone professionalmente molto specializzate. Sono persone che lavorano ormai da 15-20 anni su queste tematiche. Sono persone che si sono formate anche grazie ai fondi europei, fondi nazionali e fondi pugliesi. E sarebbe veramente un peccato perdere queste professionalità. Un'imbarcazione sottratta alla criminalità organizzata è stata messa a disposizione delle beleggiate sociali organizzate al porto dall'assessorato al welfare. Vediamo. Come guidare questa barca oggi? Ah, è bello, è bello, è bello. Bel tempo, bella sensazione. Un'esperienza anche questa di inclusione ma soprattutto di socializzazione. Assolutamente, assolutamente. Sono contento di far parte di questo progetto. Una lunga storia, quella di Williams, cresciuto in Francia, viene dal Camerun e fa parte di Casa delle Culture. Questa mattina ha guidato una delle ultime veleggiate estive. Sono state quasi 600 persone incluse, bambini, disabili, una barca accessibile a tutti quanti. Oggi, con gli utenti del centro di urno Cuneconda, proprio loro hanno condiviso l'emozione del mare in un percorso comune con gli educatori di strada della cooperativa San Giovanni di Dio e gli ospiti della Casa delle Culture. La barca è sempre in movimento. La clinchè, l'imbarcazione confiscata alla criminalità organizzata da parte dell'assessorato al welfare gestita dai volontari dell'associazione, avele spiegate. Vogliamo assolutamente coinvolgere più utenze possibili, mettere a disposizione questa imbarcazione, farla vivere. Abbiamo portato davvero tantissime utenze, dai ragazzi in sede in carrozzella, un progetto molto difficile. Abbiamo portato i migranti a bordo, abbiamo portato i bambini, abbiamo portato disabili, persone non normodotate. Quindi abbiamo fatto moltissime attività. Vogliamo coinvolgere il più possibile utenze, il più possibile persone e farli provare la barca a vela. Ci fermiamo. Breve pausa pubblicitaria. Restate con noi. Tra poco torniamo con altre notizie. Ed eccoci ancora qui in diretta per la seconda parte del nostro telegiornale. Partiamo con la sanità. Sarà l'ex ospedale Falacara di Trigiano ad ospitare il centro di qualificazione del sangue dell'Asda di Bari. Unica struttura a cui farà capo tutta la provincia. Roberto Mangi. Un luogo unico per la lavorazione del sangue a servizio dell'intera provincia di Bari si chiama Centro di Lavorazione e Qualificazione Biologica degli Emo Componenti dell'Area Vasta di Bari e si serviranno 180 giorni e 1,3 milioni di euro per vederlo realizzato. Alla consegna ufficiale del cantiere avvenuta questa mattina a Trigiano è stato presentato il progetto dell'Asda di Bari che prevede la riqualificazione del piano seminterrato e rialzato dell'ala nord del presidio integrato Francesco Falacara per ospitare un centro specializzato nelle diverse fasi di raccolta, qualificazione e lavorazione del sangue e nella successiva distribuzione degli emocomponenti. Il livello di qualità richiesto per la realizzazione di prodotti conformi assicurati da un'unica struttura su un bacino molto vasto. Questo è quello che si andrà a realizzare qui portando la lavorazione del sangue in un unico posto, la qualificazione biologica del sangue in un unico posto che sarà responsabile quindi della qualità finale del prodotto. Il centro di lavorazione e qualificazione biologica è destinato a divenire punto di riferimento a livello provinciale. Qui sarà dirottata la raccolta di sacche di sangue provenienti da tutti i servizi trasfusionali dell'Asda di Bari ma anche dalle altre strutture di raccolta pubbliche e private accreditate nella struttura provinciale di area vasta. Infatti saranno concentrate le lavorazioni di emocomponenti oggi svolte dalle strutture trasfusionali degli ospedali San Paolo, di Venere, Policlinico di Bari, Monopoli, Putignano, Molfette e Miulli di Acquaviva delle Fonti. Oltre all'attività di qualificazione biologica di emocomponenti attualmente gestita dalla struttura trasfusionale dell'ospedale San Paolo per tutta l'area vasta provinciale. L'investimento di fondi europei, di fondi FESL di 1 milione e 200 mila euro. Prevediamo il lavoro di finirlo in sei mesi, così come da contratto. E' un'importante svolta questa per quanto riguarda la rete trasfusionale pugliese. Sono previsti solo tre centri dove giustamente si accentrano le procedure di lavorazione che sono Lecce, Trigiano e Foggia. E oggi in occasione della giornata mondiale dei tumori ginecologici al Policlinico si è tenuto un open day dedicato alla prevenzione. Ne abbiamo parlato con il direttore di ginecologia ed ostetricia Ettore Cicinelli. Sentiamo. In questa giornata dedicata ai tumori ginecologici l'invito alla prevenzione deve essere ribadito sempre più forte. Quali sono le precauzioni da prendere? Certamente la cosa importante è un'attenzione alla propria salute un'attenzione ai propri sintomi un'attenzione a quello che appare effettivamente non usuale diciamo diverso dal solito non interpretare da soli o con il dottor Google quello che può essere una diagnosi ma chiedere al proprio medico di famiglia chiedere al proprio specialista di riferimento. Le campagne allarme a volte sono molto lievi possono essere un sanguignamento anomalo possono essere un allargamento della pancia un gonfiore che a volte viene interpretato come difficoltà intestinali dolore e in genere un segnale tardivo. La prevenzione e la diagnosi precoce rimangono i must nel trattamento oncologico oggi noi partecipiamo con altri centri alla giornata per la prevenzione dei tumori ginecologici con visite gratuite il sabato prossimo abbiamo qui a Bari organizzato appunto dalla nostra clinica da Policlinico un congresso su carcinoma dell'endometrio proprio al fine di dimostrare di dimostrare quello che è possibile fare in termini di diagnosi precoce in termini di trattamento adeguato con le migliori tecnologie. Andiamo con le notizie che ci arrivano dall'abbatti in questo caso perché di Appiatrani il monastero di Colonna imponente struttura sul mare con una mostra del notorafo Aretino Giovanni Raspini ce ne parla Massimo Pillera. Dopo l'invito del Washington Post a visitare Trani in autunno la città si prepara a puntare soprattutto sui periodi di destagionalizzazione con arte e cultura ed allora dopo un decennio riapre il monastero di Colonna destinato ad essere sede di un prestigioso museo archeologico. Già da diversi giorni in un impegno condiviso tra amministrazione comunale e l'orafo Aretino Giovanni Raspini sono all'opera le maestranze per il ripristino del rigoglioso giardino mediterraneo e per la pulitura degli spazi destinati ad accogliere la prestigiosa esposizione dell'orafo Aretino. Dopo Palazzo Visconti a Milano e Palazzo Colonna a Roma Giovanni Raspini ha deciso di portare a Trani al centro del chiostro del monastero di Colonna la celebre mongolfiera la scultura gioiello simbolo della mostra denominata Il Giro del Mondo in 80 gioielli che condurrà i visitatori in un viaggio delle meraviglie lungo la rotta dei paesi nel mondo. La mostra aprirà i battenti con un incontro con la stampa venerdì 23 settembre alle ore 19.30 alla presenza dell'artista Giovanni Raspini e sarà aperta al pubblico a partire dal sabato mattina alle 10 con ingresso libero fino a venerdì 30 settembre dalle 10 alle 19 in orario continuato. Andiamo adesso a conversando dove è stato presentato l'ultimo libro del giornalista Dionisio Ciccarese il tema e l'imperversare della tecnologia lo ha incontrato per noi Francesco Russo. Siamo uomini o digitali? Parafrasando Totò la domanda è quella di una società sempre più pervasa dalla tecnologia che ha cambiato complice in ultimo anche il periodo pandemico il nostro stile di vita provano a spiegare il fenomeno della cosiddetta datacrazia gli autori ed esperti di comunicazione Derek De Kerkhove e Dionisio Ciccarese che hanno presentato la loro riflessione pubblicata per l'edizione Castelvecchi nell'ambito della 18esima edizione del festival Lectoring Fabula aperto oggi a Conversano. Lasciamo le nostre tracce le nostre impronte in ogni azione che facciamo quindi siamo continuamente sotto sorveglianza in realtà uno dei temi che il professore si pone in questo libro è come uscire abbiamo coniato un acronimo che è PET che non deve evocare diciamo qualche macchinario triste ma che può essere una soluzione per i tanti problemi che abbiamo di fronte PET sta per politica educazione e tecnologia il professor De Kerkhove dice che la tecnologia noi già l'abbiamo gli algoritmi sono dappertutto si infilano dentro l'acqua meglio dell'acqua meglio dell'acqua sulla scuola e la politica la prima lettera di questo acronimo che deve investire in maniera seria si esce da questo tunnel investendo in cultura dando la possibilità alle persone di comprendere esattamente quali sono le strategie per sottrarsi alla dittatura dell'algoritmo e allo strapotere di alcuni che sono nelle condizioni di governare di estrarre informazioni importanti da tutti i dati che noi consapevolmente o inconsapevolmente ogni secondo lasciamo andiamo avanti con la cronaca ma ci spostiamo nel Foggiano dove 26 kg di cocaina purissima sono stati sequestrati dai finanzieri della tenenza di Torre Fantina durante un servizio di contrasto ai traffici illeciti nei pressi di una stazione di servizio a San Severo arrestati un uomo e una donna di origini albanesi ce ne parla nel suo servizio Nicola Saracino 26 kg di cocaina purissima sono stati sequestrati dai finanzieri della tenenza di Torre Fantina nel Foggiano durante un servizio di contrasto ai traffici illeciti in particolare controllando numerosi veicoli in transito i finanzieri hanno notato un'automobile con targa svedese che si era appena fermata in una stazione di servizio in prossimità di San Severo le due persone che erano a bordo un uomo e una donna di origini albanesi e con passaporto svedese hanno prima osservato attentamente la zona poi la donna è scesa dall'auto per farvi ritorno dopo pochi minuti mentre l'uomo è sempre rimasto chiuso al suo interno insospettiti dall'atteggiamento dei due i finanzieri hanno deciso di procedere al controllo a quel punto i due hanno iniziato a mostrare segni di nervosismo riferendo circostanze che ad un primo controllo sono risultate non vere condotta un'accurata ispezione del mezzo che ha consentito di scoprire due doppi fondi comandati da un sistema di apertura idraulico uno sotto i sedili dell'autista e l'altro sotto quello del passeggero contenente i panetti di cocaina la sostanza stupefacente dopo essere stata tagliata avrebbe fruttato sul mercato dello spaccio oltre 5 milioni di euro i due presunti corrieri sono stati arrestati perché ritenuti responsabili di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti adesso invece andiamo a Matera dove si è tenuta una mostra una galleria d'arte contemporanea nei Sassi la Momart Gallery sta diventando un vero e proprio punto di riferimento per gli artisti e non solo ce ne parla Maila Tritto l'arte sposa Matera nasce così una galleria nel cuore dei Sassi la Momart Gallery che abbraccia la città e sta diventando un vero e proprio punto di riferimento per artisti e creativi tanti eventi in programma e altre tante opere esposte sì questa mostra in particolare si chiama Mind Your Step che è una mostra personale di un artista pugliese Renato Galante e Bipa Grottaglie è un racconto di molti anni del suo percorso di viaggio che ha dovuto trascorrere ad Amsterdam e Grottaglie quindi sono una serie di disegni il lavoro che guarda oltre verso il futuro e le infinite possibilità date proprio dall'arte importante occasione per il turismo culturale quindi è un vero e proprio progetto che si concretizza un sogno sì è un sogno che è nato subito dopo che io ho frequentato l'Accademia delle Belle Arti a Bari e quindi il mio progetto era quello di poter creare uno spazio un centro culturale legato all'arte contemporanea ho imparato molto comunque da questo stage per quanto riguarda come funziona il mondo dell'arte attuale il mondo dell'arte contemporanea le difficoltà che ci sono dietro un sogno che è diventato realtà bene siamo in chiusura di questa edizione il nostro telegiornale non mi resta che ringraziarvi per averci seguito vi auguro un buon proseguimento in serata il meteo è offerto da Oropan amici tra i bimito bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì che non vedrà grandi sistemi nuvolosi sull'Italia però da un lato dobbiamo tener conto di correnti freddi in aero dal nord Europa che lambiscono il versante adriatico e poi correnti umidi occidentali invece che arrivano sul versante tirrenico come nuvolosità anche lì poco da segnalare però qualche nuvola che arriva da nord la vedremo sulle regioni adriatiche qualche nuvola che arriva dal Mediterraneo si farà vedere sul versante tirrenico come vi dicevo poche le conseguenze qualche goccia di pioggia potrà interessare le regioni del medio adriatico in giornata un minimo di variabilità anche nelle zone interne delle regioni tirreniche quindi in definitiva ci attende un mercoledì comunque con ampie zone di sereno sia chiaro però con un minimo di variabilità che interessà l'Italia centrale specie dicevamo il versante adriatico e poi vi segnalo alla fine del giorno un peggioramento anche sulla Sicilia sud orientale con qualche acquazione temporale nel Siracusano e nel Ragusano per esso non mancheranno ampie schiarite temperature però relativamente contenute soprattutto di notte al primo mattino per tutti i tagli e comunque sulle vostre località consultate l'app gratuita di Trebi Meteo Il Meteo è offerto da Oropan di Trebi di Trebi di Trebi di Trebi di Trebi Grazie a tutti.